salve a tutti ragazzi bentornati su fattore g io sono jiba e oggi siamo su un video speciale creato appositamente per la pagina di arc survival evolved ps4 italia in questo video è stato fatto per spiegarvi bene qual è il regolamento della pagina e qual è l'ultima novità aggiunta colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti per il supporto infatti da da poco abbiamo raggiunto e superato i 100 iscritti sono molto contento di questo piccolo traguardo di questi primi 100 iscritti e infatti a breve arriverà un video uno speciale dove ci sarà una sorpresa per chi commenterà e metterà mi piace per sapere per per saperne di più su questa sorpresa rimanete collegati anche alla mia pagina facebook fattore g cominciamo con la novità infatti ultimamente è stata aggiunta una nuova pagina sempre dagli amministratori dove si tratterà solo ed esclusivamente scambi e vendite vi lascerò qua sotto in descrizione del video il link della pagina lo trovate anche sulla pagina di arc survival evolved ps4 italia il link però io comunque ve lo metto anche qua sotto per quanto riguarda le regole ragazzi evitate di scrivere nick psn o numeri dei server nei post non create post con questi con queste informazioni se dovete scambiare questo tipo di informazioni con qualcuno fatelo in privato non fatelo nei post se siete interessati a reclutare o ad essere reclutati in una tribù scrivetelo qua sotto questo video non scrivetelo da altre parti sulla pagina mi raccomando allora per quanto riguarda i server pvp mi raccomando se succede qualcosa che venite raidati o cose spiacevoli mi raccomando non prendetevela con gli admin e con i moderatori che loro ovviamente non c'entrano nulla sulla pagina è presente anche un moderatore che può aiutarvi per qualsiasi tipo di richiesta se avete bisogno di lui contattatelo non ci sono non ci sono problemi se cercate un argomento in particolare ragazzi ricordatevi di cercarlo prima nel nel gruppo evitare post multipli attraverso la barra cerca in questo gruppo cerchiamo sempre di utilizzare un linguaggio consono non non bestemmiate non usate insulti razzisti o insulti sessisti non fatele una tastiera che tanto qui siamo tutti iscritti per per imparare uno dall'altro non sono ammessi spam quindi di ogni tipo quindi non non spammate non linkate canali youtube pagine facebook gruppi whatsapp twitch instagram tutto quello che che non riguarda arc e che non riguarda questo gruppo visto che le elementari le abbiamo fatti tutti i ragazzi cercate di scrivere in maniera più corretta possibile evitate abbreviazioni per essere più comprensibili ultima cosa ragazzi ma non ultima per importanza è che se vedete comportamenti che violano le regole della pagina mi raccomando fate fatelo sapere o fatelo presente agli admin e ai moderatori così potranno intervenire in maniera più efficace e veloce possibile queste erano le poche ma fondamentali regole della pagina di arc survival evolved ps4 italia quindi ragazzi vi invito a rispettare più possibile queste poche regole che vi ho appena citato vi ringrazio ancora per il supporto che mi date e per il raggiungimento dei centri iscritti vi invito a iscrivervi alla pagina di arc survival evolved ps4 italia perché siamo una bella community e ci si aiuta veramente un sacco a vicenda vi invito anche a iscrivervi alla pagina facebook e instagram di fattore g di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi